Buongiorno e bentrovati, è un piacere avervi qui. Io sono Alessandro Luccarini, Tableau & Alteryx Consultant presso l'Information Lab Italia e quest'oggi vi mostrerò il magnifico mondo di Tableau Prep, precisamente come potete vedere da questa suggestiva copertina Tableau Prep in the Wild. Questa è la nostra agenda del giorno, dove farò una brevissima presentazione dell'azienda riprendendo già i punti citati da Giuseppe, giusto aggiungendo pochi dettagli in più dal punto di vista operativo. Dopodiché avremo modo di considerare il concetto di Data Landscape e la collocazione di Tableau all'interno di quello che poi vedremo essere il Data Landscape per poi passare a una seconda parte del corso relativa a No Use Case, dove nella prima parte dello Use Case vi mostrerò in maniera teorica e descrittiva di cosa si tratta anche dal punto di vista del problema in azienda, mentre nella seconda avremo modo di considerare attraverso l'utilizzo di Tableau Prep come affrontare i problemi e come raggiungere il risultato sperato. Qui possiamo vedere un'anteprima di quello che è Tableau Prep, giusto per darvi anche un'idea grafica, tuttavia poi avremo modo di approfondire e di considerare il software nella sua credenza. Come da Information Lab farò una presentazione molto rapida e quello che vorrei sottolineare dal punto di vista operativo è la mission della nostra azienda. La cosa che davvero ci distingue, a mio parere, dalle altre aziende di consulenza è il concetto di Data School e Data Academy. Come Giuseppe vi ha già presentato, la nostra azienda si configura l'obiettivo di prendere e selezionare dei ragazzi per poi formarli internamente e quindi, come dire, creare dallo stato iniziale della conoscenza di altri Exit Tableau, che è una conoscenza basilare, una formazione completa che permette di creare dei veri e propri esperti. È un po' il nostro marchio di fabbrica, ovvero quello che la nostra Data Academy, la nostra Data School si configura come obiettivo e quello di creare dei consulenti la cui capacità e abilità nel proprio lavoro è il nostro vero e proprio marchio di fabbrica. Come vedete, qui ci sono, diciamo, risultati conseguiti dalla nostra azienda quest'anno, o meglio, l'anno precedente, di cui siamo molto, molto orgogliosi. Quindi, cominciamo con il concetto di Data Landscape. Per iniziare, infatti, questo viaggio nel mondo selvaggio dell'analisi dati, è innanzitutto fondamentale per capire qual è la big picture, ovvero il panorama totale. Come è possibile vedere qui dalla parte sinistra dell'immagine, abbiamo le varie connessioni ai dati, che possono essere di tipo server, e qui chi più ne ha più ne metta. Come poi vedremo Tableau, dà la possibilità di connettersi a praticamente tutte le basi di dato disponibili sul mercato, quindi le server-based, i Tableau file, ovviamente, che possono essere pubblicati su server, oppure possono essere veri e propri Tableau file, dei file-based, ovvero quei file flat, che sono molto comuni, pensiamo all'Excel o al CSV in azienda, fino a soluzioni cloud-based e anche web data. Quindi, da un lato abbiamo la connessione al dato, la nostra fonte dato. Tableau si inserisce, appunto, in mezzo alla nostra connessione al dato, e il risultato finale. Quindi, attraverso queste due soluzioni di BI Intelligence, possiamo connetterci alla nostra base dato, analizzare i nostri dati, e alla fine creare un output che sia condivisibile e che soprattutto sia efficiente e flessibile in base alle nostre necessità di business. Quindi qui vedete elencati tutti i possibili output che sono possibili raggiungere attraverso l'utilizzo dei Tableau software. Quindi abbiamo il Tableau server, il Tableau online e il Tableau public. Vi mostrerò solo i primi tre principali, in quanto gli ultimi tre sono più di lettura e più di adattamento a specifici device. Quello che voglio rendere chiaro a voi presenti è il fatto che da un lato abbiamo la connessione, dall'altro abbiamo il risultato, e andiamo a collocare precisamente al centro di questo flusso i due prodotti di Tableau. A questo punto passiamo a una definizione del 99% dell'azienda. Quindi andiamo proprio da un punto di vista reale su il panorama che si presenta in azienda. Il caso più comune nella quale noi consulenti ci ritroviamo coinvolti è quello che mostra da un lato una parte relativa all'ATL, ovvero extract, transform e loading dei dati, e dall'altra una parte di reporting. Per semplificare i due concetti, immaginiamo che da una parte, ovvero la parte sinistra di ATL, troviamo tutto il team di IT e vari developers, e quindi sono i veri e propri data provider, ovvero sono coloro che attuano operativamente, hanno le mani sul data warehouse, cioè coloro che con linee di codice o comunque conoscenze molto tecniche possono lavorare sulla base dato per creare il data sources. Dall'altro invece abbiamo la parte dei data user, ovvero quegli utenti business che non hanno conoscenze tecniche di coding o anche di conoscenza di che tipo di data warehouse c'è alle spalle, ma che vogliono un'analisi puntuale, precisa e soprattutto in grado di dare risultati immediati al business. Quindi da un lato abbiamo una parte molto tecnica, dall'altro abbiamo una parte più di business. Questa prima separazione, come vedremo tra poco, costituisce il primo problema nel processo di data model, di definizione di un data model. Questo perché? Perché la parte relativa all'ATL, ovvero i nostri tecnici in azienda, non hanno una conoscenza del dato dal punto di vista finale. Cioè, loro conoscono i dati e sanno come creare una struttura al data warehouse, ma non sanno poi che la colonna X e la colonna Y che creano il valore Z serviranno poi al business per ottenere un KPI, ad esempio, o per fare un esempio di vendita. Dall'altro lato invece abbiamo, dalla parte opposta, il nostro business, ovvero persone che conoscono il dato ma non sanno come è creata la struttura della base dato alle spalle. A ciò va aggiunto anche il fatto che molto spesso, come poi voi molto bene sapete, il business vuole più influenza perché il business vorrebbe essere più operativo, vorrebbe avere più indipendenza, vorrebbe insomma conoscere, avere la possibilità di lavorare con i dati per creare insight e anche proporre nuove idee al business. E molto spesso tale volontà si scontra con la fattualità degli eventi, ovvero io non posso fare questa specifica analisi perché mi mancano delle conoscenze o perlomeno non ho la capacità di raggiungere il dato di cui ho bisogno. È una vera e propria, è un vero e proprio scontro di divisioni perché da un lato abbiamo una short-term results relativa al business, ovvero analisi dati e risultati immediati, dall'altro abbiamo una long-term stability che invece si riferisce al data warehouse, ovvero voglio creare un data warehouse che sia il più stabile possibile e che implichi il minore numero di modifiche da fare, perché ciò implica un lavoro molto grande alla base. Quindi da questa situazione ne deriva uno scenario che vede in azienda pochi analisti in grado di fare delle analisi puntuali, precise ed efficaci, molto spesso facendo riferimento a strumenti, passatemi il termine, un po' antiquati, come Excel o magari basandosi su file CSV. Magari in alcuni casi abbiamo anche qualche figura che ha conoscenze di programmazione, di codice, di query, che riescono ad aggiungere questa capacità facendone un valore aggiunto, ma sappiamo quanto sia difficile questa cosa. Perciò in questo contesto ha senso iniziare a pensare a Tableau Prep come un elemento che si va ad aggiungere a questo panorama offrendo una vasta gamma di soluzioni a quel business che altrimenti si troverebbe diciamo un po' disarmato. Come possiamo qui vedere nella slide, pre-builder si presenta come un ATL powerhouse, ovvero qualcosa che dà la possibilità di fare una fase di ATL in maniera operativa sui dati e che permette di avere una soluzione che qui abbiamo descritto come light, perché non appunto, essendo caratterizzato in un'interfaccia grafica, non necessita della scrittura di linee di codice per poter utilizzare. Ora passiamo alla descrizione del nostro use case. Il nostro use case in questo caso è un'azienda nella quale ci siamo trovati a lavorare come consulenti e la cui struttura iniziale, come vi mostrerò di qui a breve, era una struttura molto molto articolata. Diciamo che era una struttura davvero davvero pesante. Questo perché? Questo specifico business aveva un subscription-based model, ovvero un modello che era basato su delle sottoscrizioni in cui milioni di clienti ogni mese andavano a popolare il data warehouse. Questo significa quindi un ammontare i dati molto esteso con un tempo di refresh di un mese. Quindi ogni mese noi avevamo dati che arrivavano in grandi quantità all'interno del nostro data warehouse. Per darvi un'idea concettuale di come si configurava la struttura per una singola dashboard. Quindi immaginatevi di avere una dashboard in cui mostrate i vostri dati e questa dashboard si basa su un modello sinistra nella slide. Qui in questo caso abbiamo semplificato anche graficamente il concetto per darvi un'idea. Quindi vediamo che ci sono ben cinque left join e una inner join. Ma per farlo a breve cosa significa questo flusso? Significa che ogni modifica da fare quindi come business io mi trovo costretto a lavorare con dei dati che derivano da questa creazione di data warehouse. Se un domani io volessi inserire una nuova colonna o perlomeno creare una nuova colonna e inserirla in questo concetto di data warehouse ci rendiamo conto di che operazione ne ha le spalle. Ci rendiamo conto che una singola modifica in uno solo degli elementi di cui vediamo collegati in join presuppone anche un lavoro molto grande di certificazione del dato e anche di data quality perché sappiamo che basta poco all'interno di queste join basta una modifica minima che modifica le chiavi di join per far sì che i dati che fino a un secondo prima lavoravano in maniera perfetta ed efficiente si ritrovano poi ad essere dati completamente sballati. Considerate che in azienda hanno presente più di 20 dashboard che avevano tutte una struttura simile a questa ma diversa in termini di query. Questo giusto per darvi un'idea della complessità che c'era alle spalle. Nel momento in cui ci si è resi conto il business si è reso conto che questo modello non era efficace non era ciò che diciamo l'azienda voleva anche in termini futuri ci è stato chiesto di ripensare a un new database model. E qui diciamo il cambiamento è stato epocale poiché siamo passati dall'avere una struttura rigida, complessa e articolata come quella precedente a qualcosa di molto più leggero. Infatti come vedremo nelle prossime slide veniva proprio stravolto il paradigma di lavoro all'interno dell'azienda e come potete intuire dal secondo punto di questa slide l'IT non era più il data owner totale di tutto il progetto bensì era qualcuno che si trovava a collaborare con il business. questa è stata la vera e propria rivoluzione al di là del cambiamento molto pesante dal punto di vista operativo e tutto ciò sarebbe stato terminato in tre settimane quindi un vero e proprio sprint. Ma perché il business arrivato a un certo punto ha deciso di modificare l'intera struttura del database model? Questo semplicemente perché le finalità erano tre semplificate erano semplicemente tre. La prima appunto di semplificare il lavoro in termini di operatività ma in termini anche di concetto il secondo scopo era quello di passare da milioni di righe diciamo anche di difficile lettura ad una singola riga che qua possiamo definire una singola tabella e alla fine velocizzare il tutto perché è inutile ottenere un'analisi perfetta ma se il business ha una necessità di una settimana per arrivare ad avere un'analisi non possiamo ovviamente impiegarci tre mesi. quindi questa concatenazione di obiettivi ha portato alla scelta di stravolgere completamente il data model che era alla base dell'azienda. Quindi era questa struttura che includeva tutte queste SQL join e join su file statici lo scopo era di arrivare semplicemente ad una semplice tabella riassuntiva con tutti i dati necessari. ecco questa è la vera rivoluzione che si è attuata non parliamo soltanto quindi di una operatività all'interno dell'azienda ma parliamo proprio di un stravolgimento di concetto infatti come possiamo vedere ora queste due aree che prima erano divise e non erano minimamente interlacciate tra loro diventano essenziali nella collaborazione in quanto l'IT si aspettava non era più l'IT diciamo che lavorava in maniera come se fosse un silos separato sui dati creando il data warehouse ma senza avere un minimo di finalità a livello di business quindi viene completamente modificato il flusso di collaborazione perché l'IT avrebbe aspettato l'input del business ovvero dei data user per tradurre quei bisogni aziendali in una soluzione a livello data warehouse stabile e sicura in grado di soddisfare tutte le richieste quindi da un flusso monodirezionale possiamo definirlo come precedente se è passato un flusso bidirezionale continuo tra le due parti questo non solo dato la possibilità di terminare il progetto in tre settimane ma dato soprattutto la possibilità di creare un test continuo da parte dell'utente che aveva modo di testare i propri dati e tornare dal business e tornare dall'IT scusate nel momento in cui qualcosa non era chiaro o non era corretto tutto ciò inserendo ovviamente la blow prep nel proprio flusso e nella propria creazione del data warehouse quindi ricapitolando questi erano i tre grandi obiettivi da perseguire e vediamo come nell'immagine sia cerchiata sia evidenziato proprio il fatto relativo a ok prima avevamo un flusso che scontentava tutti perché non era completo in questo caso invece abbiamo un circolo continuo di informazione e collaborazione che è proprio la vera rivoluzione di questo cambio di database moda questo aggiunge anche dei benefici davvero davvero importanti all'interno del processo di creazione dati perché? perché permette al business innanzitutto di avere operatività sui dati e vedere anche eventuali errori questo significa aggiungere un layer di check alla data quality che rende di conseguenza lo sviluppo molto più robusto perché non è soltanto un problema dell'IT che deve eseguire delle modifiche diciamo su base fissa o mensile di data quality ma bensì è il business che si interfaccia con l'IT ed ha permesso di sviluppare un flusso che sia che sia stato molto robusto sia stata una cosa davvero molto robusta alla fine di questo continuo rapporto di comunicazione tra le due parti e ovviamente come già ripetuto il business nello stesso tempo non rimaneva ancorato al lavoro dell'IT perché se l'IT intanto poteva lavorare i step e creare tre delle cinque query necessarie fornendole al business il business attraverso Tableau Prep poteva intanto iniziare a lavorare su quelle query disponibili e validate e continuare il proprio processo di analisi a tutto ciò qui faccio un piccolo escursus anche dal punto di vista prettamente tecnico a tutto ciò i benefici portati da Tableau Prep si riferiscono anche a dei problemi pratici di ogni giorno che qui ho elencato il primo punto è innanzitutto diciamo un gentle reminder ovvero tutto ciò che vi sto dicendo presuppone il fatto che coloro che fanno parte del business abbiano conoscenza dei dati sembra la banale però è sempre bene ripeterlo perché ovviamente alla base di tutto questo c'è una conoscenza lato business dei dati che si ha pressoché totale al di là di questo i tre punti che vediamo quindi il secondo il terzo e il quarto punto di questa slide sono diciamo dei benefici apportati da Tableau Prep che rendono superfule questa lista di elementi la prima è la coding knowledge ovvero grazie a Tableau Prep tutte le modifiche di cui vi ho parlato prima non presuppongono la conoscenza del linguaggio di codice ben venga se c'è ovviamente ma non è necessaria più di tanto perché tramite Tableau Prep è un'interfaccia grafica che non ha bisogno di linguaggio di codice possiamo andare a fare una operazione di data quality check senza conoscere i fondamentali del codice un secondo punto molto importante soprattutto per le T è una cosa che ha davvero valore perché è davvero noioso è l'assenza dei driver connection di setup cioè non è necessario settare dei driver connection di setup nel momento in cui si utilizza prep e questo credetemi è una cosa che all'IT fa molto piacere perché non deve perdere tempo nel momento in cui il nuovo utente si inserisce nel sistema per settare questi driver con nuovi programmi nuove funzionalità ecc infine ma non l'ultimo ma non l'ultimo per importanza abbiamo il fatto che i read and write rights non siano non sia necessario settarli insomma cioè tutto ciò che viene fatto con Tableau Prep lavora su un'istanza separata che non ha bisogno di settare questi tre spiacevoli queste tre spiacevoli operazioni e questa è una cosa che all'IT ripeto fa molto piacere tutto ciò se abbiamo parlato in questo momento di business e di IT come beneficio apportati ovviamente è un beneficio apportato anche a un livello più alto ovvero a coloro che sono i cosiddetti decision maker perché in una situazione precedente a quella che abbiamo visto il data source non era in grado di fornire risposte immediate a un problema e quindi si presentava come qualcosa di estremamente rigido e statico ad aggiungersi a questo problema c'è anche il fatto che la struttura precedente quella che abbiamo visto come articolata e complessa era appunto articolata e complessa e non permetteva un cambio all'interno dell'original data structure ciò significa che le risposte non potevano essere recepite da quel data warehouse perché era proprio difficile andare ad intaccare la stabilità del data warehouse stesso in tutto ciò la soluzione possibile con tablo desktop e tablo prep ha reso possibile quello che prima non era nemmeno pensabile ok prima di iniziare con la seconda parte dello use case innanzitutto chiedo se ci sono eventuali domande riguardanti lo use case o cose poco chiare vi chiedo cordiosamente di utilizzare la chat alla quale chiedo la cortesia Giuseppe di dare un'occhiata prima di iniziare con la presentazione pratica del nostro use case vorrei innanzitutto presentarvi o meglio vorrei fare una piccola piccola presentazione di due software di tablo perché vi ho parlato di tablo desktop e di tablo prep ovviamente entrambi i software fanno parte della stessa famiglia tablo tablo desktop se qualcuno di voi è già familiare con il prodotto è ideale nel momento in cui abbiamo la necessità di mostrare i nostri dati perché è un tool di data visualization un tool di data visualization che comprende ovviamente una forte componente di connessione al dato dando la possibilità di connettersi a davvero ogni tipo di dato ed ha anche la possibilità però attraverso dei calcoli di raggiungere determinati risultati come ad esempio dei campi calcolati delle condizioni delle if statement eccetera eccetera da un lato quindi abbiamo questo tool di BI che è l'ideale per la data visualization dall'altro abbiamo invece tablo prep tablo prep è un tool che ci permette di creare dei flussi dei cosiddetti workflow quindi non siamo più da un punto di vista della data visualization ma siamo da un punto di vista del data source creation quindi tablo prep ci permette di creare dei flussi anche qui facendo delle operazioni che poi avremo modo di vedere anche all'interno della parte finale del corso ovviamente ci permette di creare dei flussi e di fare operazioni come filtri campi calcolati aggregazioni diciamo in poche parole ci permette di connetterci a un dato e di creare un output in base alla nostra necessità di business questa breve presentazione tengo a farla perché come vedremo poi in questo use case vi darò entrambe le soluzioni noi abbiamo lo stesso problema legato allo stesso use case che potrà essere declinato in due soluzioni differenti una tramite tablo desktop e una tramite tablo prep ok detto ciò possiamo iniziare a considerare il nostro use case dal punto di vista proprio pratico questa tabella è una tabella ovviamente riassuntiva abbiamo preso un sample del nostro problema perché non avrebbe avuto senso mostrarvi milioni di righe però la struttura era veramente questa cioè immaginate di avere questa tabella e al suo interno aveva ben 5 colonne in cui nella prima abbiamo una data nella seconda una location che si distingue per location 1 e location 2 nella terza un prodotto che anche in questo caso si riferisce a prodotto 1 o prodotto 2 nella quarta colonna abbiamo un ammontare che si riferisce a una singola data ovvero la prima colonna mentre l'ultima colonna che troviamo se diamo un'occhiata possiamo vedere come abbiamo solo due valori a popolare questa colonna abbiamo due valori e il resto sono tutti in zero questo perché? perché semplicemente quel valore che vediamo nella end of month si riferisce per la location e il prodotto al valore finale dell'ultima data presente in data warehouse ovvero come potete vedere quel 560 presente nella sesta riga fa riferimento alla location 1 al prodotto 1 in data 27.9 così come l'ultima riga che vediamo in questa tabella 616 fa riferimento al prodotto 2 a location 2 del 27.9 ovvero la data più recente all'interno del data warehouse questo fa sì che le altre righe relative a un'altra data precedente all'ultima del data warehouse fossero vuote e in questo diciamo proprio da questo punto proprio da questo aspetto parte la necessità del business di avere qualcosa di più rispetto a questa colonna rispetto a queste 5 colonne abbiamo una colonna in più da inserire ovvero lo start amount nel mese corrente questo start of month avrà ovviamente tutti i valori per ogni cella perché se nella colonna precedente avevamo la fine del mese ovvero valore più aggiornato in una somma di calcolo cumulato ci aspettiamo di ottenere lo stesso valore per ogni singola riga o per ogni singola data per tutte le righe presenti in tabella questo implica il fatto di dover fare un calcolo che noi qui abbiamo definito backwards un calcolo backwards come potete vedere dall'esempio che spero sia il più chiaro possibile ho cercato di essere il più chiaro possibile non mi rendo conto che la logica di calcolo non è immediata comunque in questa tabella cerchiamo di capire insieme qual è la finalità che era da raggiungere questa informazione vediamo che nella tabella prendiamo di riferimento quel 560 quel 560 sappiamo che il valore per la location 1 prodotto 1 all'ultima data disponibile nella nostra base dato poi abbiamo l'ammontare che si riferisce alla singola data quello che vogliamo fare perciò è calcolare la quantità perché l'amount si riferisce alla quantità di location 1 e prodotto 1 all'indietro ovvero come possiamo vedere nella slide nella parte destra della slide per il mese di settembre sarà necessario fare end of month meno amount relativo allo stesso mese di conseguenza andando in una logica backwards per il mese di agosto sarà necessario prendere quella montare che è sempre 560 alla quale andremo a togliere il 130 che si riferisce al mese di settembre e il 120 che si riferisce al mese di agosto quindi questa logica di backwards che abbiamo mostrato qui in maniera semplificata è la necessità che aveva il business nell'inserire questa colonna mancana perciò ogni mese avrò bisogno anche di questo valore di end of month per la location della produzione non è ovviamente una risposta scusate una colonna di cui potremo fare a meno perché andrà ricalcolato di nuovo a questo punto tornando al discorso precedente in cui vi ho parlato delle due soluzioni di BI che abbiamo a disposizione abbiamo due soluzioni possibili in questo caso analizzeremo prima in maniera molto rapida non mi soffermerò più di tanto su Tableau Desktop perché la finalità di questo corso è presentarvi Tableau Prep tuttavia voglio darvi anche questa opportunità e questa alternativa in Tableau Desktop per raggiungere la soluzione di cui abbiamo parlato poco fa sarebbero state necessarie due formule una di tipo exclude load in cui una load o meglio una level of detail non è altro che una formula che Tableau ha al suo interno per disaggregare o aggregare un determinato un determinato elemento all'interno della nostra formula in questo caso come potete leggere escluderemo la data cioè non sconsideremo la data della singola riga e andremo a prendere il totale della montare dell'end of mouth non so quanti di voi siano già familiari con Tableau e con le load tuttavia ripeto voglio solo darvi un esempio operativo di quello che il problema avrebbe implicato se avessimo utilizzato Tableau Desktop questa è la prima formula che sarebbe stata la formula necessaria per ottenere il nostro end of month ovvero i due valori a fine mese a ciò sarebbe stato necessario ricavare anche lo start of month con la formula che segui qui ovvero prendendo la formula precedente e sommandoci un calcolo che in questo caso vedete non è proprio immediato e perché voglio mostrarvi questa soluzione voglio mostrarvi questa soluzione perché mettendomi nei panni di una persona business che ha una conoscenza di Tableau non elevata o perlomeno non avanzata creare due formule simili non è certamente una cosa immediata cioè mi rendo conto che non è una cosa che anche dal punto di vista concettuale un utente che ha una conoscenza media di Tableau riesce ad implementare con facilità perché sono appunto dei calcoli complessi e ovviamente non possiamo nemmeno sapere poi magari possiamo anche scrivere una formula che ci sembra corretta ma basta un dettaglio per far sì che il valore non sia corretto quindi cioè per farvi capire che la soluzione da raggiungere attraverso Tableau Desktop non sarebbe stata immediata né facile e a ciò aggiungo anche una piccola postilla relativa al fatto che questo tipo di soluzione che vedete qui da un punto di vista pratico di efficienza di performance della dashboard non è la soluzione migliore perché sono due formule una LOD di tipo exclude sommato un'altra formula che la implica fa sì che la nostra dashboard non sia veloce quanto vorremmo insomma tutto ciò per presentarvi appunto una soluzione diversa che io definisco anche molto più semplice che quella che implica l'utilizzo di Tableau Pre quindi passerei a mostrarvi il flusso così da presentarvi finalmente e mi direte il programma ok spero che non ci siano problemi nella condivisione dello schermo come potete vedere questo è come si presenta il nostro flusso farò anche una piccola panoramica su Tableau Prep quindi immaginatevi di aprire Tableau Prep la prima cosa che andremo a fare cliccando su questa freccettina in alto è aprire il pannello di sinistra questo pannellino blu apre la voce delle connessioni in questo caso abbiamo già una connessione presente che è quella della nostra tabella Excel di esempio ma cliccando sul più possiamo vedere tutte le connessioni disponibili quindi abbiamo dalle più utilizzate come Microsoft Access un PDF che è una cosa che Tableau ha ed è una cosa davvero innovativa fino ai classici file Excel CSV file di testo ma abbiamo anche tutte le varie connessioni ai diversi server quindi come potete vedere abbiamo Cloudera Adop abbiamo Amazon Redshift abbiamo IBM MySQL tutti i principali insomma detto ciò nel nostro esempio ciò che abbiamo fatto è stato caricare il nostro file Excel in questo caso si chiama Example del Excel portarlo all'interno del flusso e iniziare a creare il flusso ora seguiremo step dopo step tutte le componenti del flusso dalla semplice inserimento del nostro file di input all'interno del flusso fino alla creazione dell'out ok quindi così caricando il nostro flusso la prima cosa che andremo a fare dopo che avremo caricato il flusso e l'avremo lanciato è vedere nel pannello in basso nella zona bassa dello schermo una prima descrizione dei dati a nostra disposizione quindi come potete vedere qui abbiamo un sample che ci dà anche un'idea dei valori che sono presenti all'interno di io di Riva però diciamo che ci lascia non proprio soddisfatti perché noi vorremmo avere un'analisi maggiore di dati ma è molto semplice raggiungerla perché servirà soltanto cliccare sul più ed inserire uno step uno step che in questo caso si presenterà come una semplice barra una barra colorata in questo caso cliccando sulla nostra barra colorata Tableau ci darà un primo esempio di analisi dei dati che è più flessibile che è più interattiva con l'utente in quanto andando nella parte bassa vedremo come tutte le colonne sono state visualizzate all'interno del nostro pannello ma vedremo anche come cliccando su una singola cella sia possibile evidenziare tutti i valori associati ad essa quindi possiamo già avere un'idea e fare una prima analisi molto rapida e descrittiva dei dati all'interno della nostra tabella detto ciò un'altra cosa molto importante che possiamo fare se necessario è innanzitutto considerare tutti gli elementi che abbiamo a disposizione nel nostro pannello basso voglio cercare di fare come dire voglio cercare di trasmettere secondo me uno dei punti più importanti di Tableau Prep cioè molti programmi di BI o di ETL si caratterizzano per la loro complessità ovvero voglio fare un'operazione ma per farla devo andare a cercare i mille menu oppure devo fare mille operazioni per raggiungere la mia finalità ecco in Tableau sia adesso che Prep la vera forza del prodotto è che tutto è semplicemente a portata di click ad esempio in questo caso io ho la mia colonna prodotto per un qualche motivo diciamo nel mio file di partenza di input era stata definita come non lo so un integer anziché una stringa sto teorizzando per modificare il formato del dato mi basterà cliccare qui andare sul pannello che si apre di Data Type e sistemare il data forma in questo caso poi possiamo anche settare i data roll cioè questo per darvi soprattutto l'idea di come sia facile e intuitivo andare a operare e fare modifiche sul dato presente all'interno di Tableau Pre come possiamo vedere qui è possibile fare un sort è possibile cercare all'interno della stessa colonna e infine abbiamo questo pannello che ci dà tutta la totalità di operazioni possibili da fare sia delle operazioni di filtro inserendo dei calcoli delle wildcard match o escludendo i null value di group e replace quindi se voglio aggregare di pulizia make upper case make lower case se vogliamo modificare il tipo di stringa che abbiamo anche lo split value ovvero se abbiamo uno spazio vogliamo creare un'altra colonna in cui diciamo sia prodotto che numero prodotto semplicemente quello split value Tableau automaticamente ci dividerà dando ovviamente un delimitatore che fa il caldo nostro in due colonne con un semplice flip sarà anche possibile rinominare il campo creare un campo calcolato o anche rimuovere il campo se non è necessario dopo questa breve panoramica andiamo a considerare le operazioni da fare per il nostro flusso come potete vedere all'interno di ogni operazione che va inserita cliccando semplicemente sul più potremmo anche aggiungere un commento questo è importante perché non solo dà possibilità a noi che siamo i creatori del flusso di avere sempre a mente di fare mente locale sulle operazioni che abbiamo fatto ma immaginatevi in futuro di avere un flusso creato da qualcun altro in cui sono state fatte delle operazioni senza commenti questo implica ovviamente un lavoro di come dire di ricerca all'interno di tutti i tool delle operazioni fatte quindi quasi di decodifica inserendo questi semplici commenti invece diamo un messaggio chiaro ed intuibile a tutti coloro che apriranno il flusso dopo di voi detto ciò siamo arrivati perciò alla nostra analisi del dato ora siamo pronti per partire siamo pronti operativi per rispondere alla necessità del business ovvero quella di creare una tabella che abbia al suo interno i valori relativi all'inizio del mese cosa al momento a sé per farlo la prima cosa che faremo sarà creare un'aggregazione che ci creerà appunto questo tool che abbiamo qui dato in cui sarà possibile fare una group by semplicemente con una logica di drag and drop quindi ad esempio come potete vedere io posso portare all'interno del mio tool tutti gli elementi che voglio voglio portare la data vado a portare la data all'interno del gruppo se invece un valore numerico lo porterò nell'aggregated field che mi farà un'operazione matematica in base al valore numerico che vado ad inserire in questo caso ciò che abbiamo fatto è stato ridurre il numero di righe presenti all'interno della nostra tabella a due semplici righe per ottenere soltanto e isolare il valore relativo a prodotto 1 location 1 prodotto 2 location 2 del fine mese quindi siamo passati da una tabella che aveva tutti questi dati e quindi anche sia le date singole che gli amount e il valore che a noi serviva lo abbiamo aggregato e schiacciato in due semplici righe per ottenerci il valore a noi utile per calcolare il valore a fine mese come potete vedere qui dal commento è la stessa identica operazione che avremmo potuto fare in tablo desktop con la logica che abbiamo mostrato prima quella dell'exclude dell'od mentre però di là abbiamo visto che si trattava di scrivere una formula abbastanza complessa in questo caso si tratta solo di aggiungere un aggregation e tramite tre semplici drag and drop due per quanto riguarda il grouped field e uno per quanto riguarda l'aggregated field possiamo raggiungere il nostro risultato quindi il primo valore necessario per il calcolo finale è stato calcolato noi abbiamo per entrambi i prodotti le location il valore a fine mese ora continuando a noi a questo punto ci servirà creare una logica capace di darci tutti i valori per il nostro backward calculation per farlo come potete vedere qui da questa da questo step verde io ho duplicato i miei dati di tabella quindi se clicco qui semplicemente avrò la stessa identica struttura presente qui questo perché? perché per avere tutti i dati che voglio a livello di dettaglio che voglio delle righe sarà necessario fare una self join che vediamo qui tra gli stessi dati e non preoccupatevi se al momento non vi è molto chiaro perché adesso sarà sicuramente tutto più semplice da dire quindi in questo primo input blu abbiamo i dati originari in questo step verde abbiamo i dati duplicati dopodiché andremo ad aggiungere una join add join la blow prep ci darà la possibilità di avere questa join all'interno del flusso e a questo punto dovremmo ragionare per ottenere le nostre righe quindi cosa faremo noi? abbiamo gli stessi dati divisi in due parti differenti blu e verde la cosa che andremo a fare innanzitutto è definire le chiavi di join possiamo semplicemente modificare da qui aggiungendole o rimuovendole tramite un semplice click in questo caso ci serviranno tutte le righe in cui abbiamo la stessa location e lo stesso prodotto proveniente da entrambi i nostri input quindi blu e verde possiamo vedere come anche l'elemento colore ci aiuti a capire a cosa stiamo facendo riferimento quindi questo blu viene riportato come la location blu e questo verde viene riportato come la location verde quindi stessa location stesso prodotto ma la data ci serviranno tutte le righe in cui la data è minore o uguale tra di loro cioè è una self join perciò prendiamo tutte le date che vengono dal blu e andiamo ad aggiungere in questo file tutte le date del file verde che sono minore o uguali a quelle date ripeto al momento capisco che può essere non immediata come comprensione ma adesso vedremo passo dopo passo il perché di questa operazione cerchiamo infatti di leggere il commento che ho inserito sotto questo tool facciamo una join sulle date per ottenere i valori necessari alla running sum per fare il calcolo backwards andiamo infatti a vedere quello che viene fuori dalla join come possiamo vedere qui abbiamo gli stessi dati ma ora abbiamo in più un ammontare che è l'ammontare diciamo abbiamo l'ammontare duplicato di entrambi i nostri input e tramite un aggregation che semplicemente andremo ad aggiungere sempre cliccando sul più e cliccando su aggregation andremo a fare il calcolo che hanno i server in questo caso calcoleremo un running sum basato su prodotto e location arrivati a questo punto infatti quello che a noi serve qui è fare una group di prodotto location e data ottenendo questo amount to user running sum che abbiamo modificato dal input precedente infatti scusate voglio rimarcare questo fatto come vedete qui all'interno della join precedente in cui abbiamo messo insieme gli input provenienti dal blu e gli input provenienti dal verde abbiamo anche rinominato questo campo ovvero dall'amount verde è tutto scritto basta soltanto un attimo provare a interpretare ma vedrete che Tableau Prep dà la possibilità di capire ogni operazione semplicemente leggendo quindi abbiamo l'input che proviene dal verde e l'amount perché ovviamente abbiamo duplicato i nostri valori e avremo l'esatta copia l'abbiamo chiamato amount to user running sum quindi arrivati a questo punto dopo aver rinominato questa colonna in amount to user running sum andremo a fare un'aggregazione basata sul gruppo del prodotto gruppo del location e le date perciò semplicemente vediamo che per l'8.4 abbiamo tutti i valori che ci servono relativi a quel mese per fare il nostro calcolo al contrario così come per tutte le altre date sempre raggruppate per data location e prodotto cercando di rendere il tutto più chiaro passiamo allo step successivo in cui abbiamo fatto un campo calcolato possiamo vedere scusate prima abbiamo rinominato innanzitutto abbiamo rinominato perché c'era un errore un errore di tipo un errore di tipo typo infatti questo voglio voglio aggiungerlo perché sembrerà una cosa banale però ad esempio noi siamo a questo punto ci rendiamo conto che questo campo come potete leggere si chiama amount to use in running sum senza la U semplicissimo rinominarlo ci basta aggiungere uno step ci basta fare un doppio click possiamo rinominare il campo questo per farvi anche capire come è semplice fare piccole operazioni che altrimenti in altri software sarebbe molto più complesso attuare arrivati a questo punto in cui abbiamo rinominato il nostro campo come vogliamo possiamo passare alla fase precedente al nostro calcolo finale quindi cercando di fare un breve recap prima di considerare questa join ho caricato i miei dati da questi dati abbiamo raggruppato per ottenere il valore finale del fine mese dopodiché per fare questo calcolo di tipo backwards abbiamo duplicato i nostri dati abbiamo costruito una self join in grado di aggiungere una colonna con gli stessi valori che ci permette di fare un'aggregazione senza perdere i nostri dati precedenti abbiamo raggruppato i nostri dati abbiamo ripulito la nostra colonna chiamandola in maniera corretta e a questo punto che abbiamo tutto quello che ci serve possiamo fare di nuovo un'altra join questa volta la join sarà ancora più semplice perché a noi servirà soltanto mettere in join la location e il prodotto quindi prenderemo tutte le righe in cui c'è un match tra la location proveniente dal nostro input rosso e la location proveniente dal nostro input blu e allo stesso modo usare la stessa logica per quello che riguarda il prodotto quindi a questo punto qual è la finalità di questa join la finalità di questa join è aggiungere ai nostri dati alla nostra tabella tutte le colonne che ci servono per il calcolo è un po' come costruire andare ad aggiungere le colonne mancanti per il calcolo finale calcolo finale che possiamo aggiungere semplicemente qui di nuovo aggiungendo uno step in questo calcolo finale vedremo come sarà possibile creare un campo calcolato cliccando su create calculated field per creare una logica molto semplice ovvero noi prenderemo l'end of month che è il nostro valore che abbiamo creato nella parte alta del flusso che si riferisce quindi all'ultimo dato disponibile nella nostra base dato e a quel valore andremo a togliere con una logica di riga gli ammontare calcolati per il running sum quindi la finalità della parte di tutta questa parte del flusso non è stata altra quella di capire la logica necessaria per aggiungere le colonne utili per poi ricongiungerle al valore del fine mese che abbiamo calcolato separatamente e avere il nostro calcolo finale a questo punto creando questo campo calcolato qui vediamo nelle modifiche che abbiamo creato un campo calcolato e abbiamo rimosso dei campi ovvero quei campi che erano duplicati dalla nostra join iniziale arrivati a questo punto cliccando sul più non abbiamo fatto altro che dire ok ora ho tutti i calcoli che voglio i risultati che voglio ora però mi serve un output quindi andando sull'ultima icona presente nel menu del più della plus action aggiungeremo un ad output questo ad output ci dà la possibilità di scegliere in diversi formati possiamo aspettate che cerco di allargare un po' lo schermo ok come possiamo vedere possiamo salvarlo in un file dandogli un nome e definendolo a directory nel nostro computer possiamo scegliere se lo salviamo come file tra tre diversi formati un hyper un tde e un csv l'hyper e i tde sono formati diciamo specifici per tableau mentre il csv lo conoscete tutti è semplicemente un comma separated value quindi queste sono le tre opzioni che abbiamo a disposizione in tablo prep per salvarlo come file ma possiamo anche pubblicarlo direttamente come un data source selezionando il nostro server qui ovviamente sarà necessario avere un server sarà necessario avere delle credenziali di login ma arrivati a quel punto sarà facilissimo loggarsi e pubblicare direttamente sul server ad esempio ho io un tablo server farò il mio sign in e il mio login tramite le mie credenziali e potrò direttamente andare a pubblicare il mio data source all'interno del mio tablo server ok questo per darvi di nuovo l'idea di come alla base di tutto ciò ovviamente c'è una conoscenza dei dati però come avete visto le logiche che sono state implementate in questo flusso sono molto basilari cioè non c'è niente di non c'è nessuna formula estremamente complessa c'è soltanto un minimo di logica per ottenere quelle informazioni che al momento non abbiamo all'interno della nostra base data cosa che invece come abbiamo visto prima in tablo desktop non è allo stesso modo rapportabile perché in quel caso sarebbe stato necessario applicare non uno ma ben due calculated field abbastanza avanzate per raggiungere questa finalità che qui davvero vediamo aver raggiunto in pochissimi passi questo è il nostro bellissimo flusso quindi come possiamo vedere è abbastanza semplice abbastanza pulito e ci dà anche la possibilità di raggiungere dei commenti detto ciò spero di essere stato il più chiaro possibile mi rendo conto che questo use case non era di immediata comprensione ma sono sicuro che è un qualcosa che avete comunque capito senza particolari problemi nonostante le difficoltà detto ciò io tengo a ringraziarvi per l'attenzione mostrata spero di essere il più chiaro possibile se qualcosa è stato poco chiaro se avete domande vi pregherei appunto di scriverci subito al momento io ho finito la presentazione così da poter soddisfare ogni vostra curiosità grazie ancora Alessandro Sì dimmi Giuseppe Sì puoi fare una breve overview sui connettori quindi sulle possibilità di connessione al dato Sì certo e la possibilità di collegare Salesforce Sì assolutamente Grazie Arrivo Ricondivido lo schermo Ok Allora c'è la possibilità di connettersi a Salesforce Sì anche se al momento sto cercando tra i connettori diretti di Tableau Prep perché sul Tableau Desktop c'è sicuramente la possibilità di connettersi a Salesforce Per quanto riguarda Tableau Prep SAP Snowflake Diciamo che tra i connettori immediati non lo sto visualizzando Mentre per quanto riguarda Tableau Desktop vediamo che è possibile connettersi a Salesforce direttamente da Senninqui Quindi la risposta è in caso fosse necessario connettersi a Salesforce sarebbe forse ideale passare prima per Tableau Desktop perché ci dà la possibilità di direttamente connetterci a Salesforce semplicemente inserendo le credenziali e poi implementare una logica su Tableau eventualmente server in cui pubblicare il link da prep e connettersi a Salesforce sorti